Ciao a tutti ragazzi, sono Paolo Innocenti e sono qua nella mia postazione in Toscana pronto per parlarvi di un nuovo film che ho visto al cinema. Vi ricordo che anche questa recensione è in collaborazione con Avanti Cinema e TV, pagina Facebook e sito internet completamente dedicato al cinema e io vi lascio il link qua nelle info del video così potrete andare a vedere. Detto questo ragazzi oggi voglio parlarvi di un film veramente importante, di un film che non vedevo l'ora di vedere, un film veramente che stavo aspettando con tanta curiosità e che speravo potesse far aprire gli occhi a molte persone e che potesse appassionarmi. Oggi voglio parlarvi di un film con la regia di Alessio Cremonini che si rifà ad un tragico evento di cronaca, il film in questione non è nient'altro che Sulla mia pelle. Sulla mia pelle è un film che tratta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi. Stefano Cucchi sicuramente lo conoscerete, un ragazzo che nell'ottobre del 2009 venne arrestato perché trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di cocaina e durante la custodia cautelare, sette giorni dopo, morì in circostanze molto analoghe. Tant'è che vi sono stati molti processi e così via, questa tragica morte sembrerebbe esserci stata per colpa della violenza che il nostro Stefano Cucchi ha subito all'interno della caserma dei Carabinieri dove è stato portato la prima sera. Anche se ho dovuto usare il termine sembrerebbe perché purtroppo, anche se è una cosa più che lampante, è dal 2009 in poi che ancora non vi è una risposta definitiva a questa tragica storia. Quindi purtroppo devo usare sembrerebbe, devo parlare di una presunta morte causa pestaggio perché purtroppo, anche se sono passati quasi dieci anni, ancora non vi è una risposta definitiva ed è una cosa assurda. Dal 2009 ad oggi ci sono stati tanti processi. A ogni processo, magari le persone coinvolte, fra carabinieri, medici e così via, venivano rinviati a giudizio, rinviati a giudizio, rinviati a giudizio. Sempre così, sempre e comunque così. Quindi purtroppo ancora oggi, nel 2018, non abbiamo una risposta concreta e definitiva anche se tutti dentro di noi sappiamo com'è andata veramente. Perché certo, un giovane ragazzo non muore così da un momento all'altro senza nessun motivo. Allora, questo film è un film molto importante. Questo è un film che deve far riflettere. È un film che non vedevo l'ora di vedere. Prima dell'estate scoprì che questo film sarebbe uscito su Netflix. Questa cosa un po' mi aveva dato fastidio perché io amo il cinema, amando il cinema, andandoci spesso, amo vedermi film in sala. Se pensavo che magari sulla mia pelle avrei dovuto vederlo per forza sullo schermo di un televisore o di un PC, questa cosa mi dava fastidio. Mi dava fastidio perché io amo la sala, amo entrare in sala con il pubblico. Per me quello è il cinema vero. Il cinema vero non sarà mai su uno schermo di un PC e così via. Per questo io ho sempre sperato che Netflix potesse capirla questa cosa e che oltre a distribuire i propri film sulla piattaforma, cominciasse a distribuirli anche in sala. Poco tempo dopo aver appreso la notizia che Sulla mia pelle sarebbe stato un film per Netflix, nel primo trailer di Sulla mia pelle ho scoperto che sarebbe stato distribuito anche nelle sale. Questa cosa mi ha fatto veramente piacere e sembra quasi che Netflix abbia aperto gli occhi perché secondo me una distribuzione in sala può far solo che bene a chi ama il cinema ma può far bene anche alla piattaforma perché ovviamente una distribuzione in sala è sinonimo di un introito maggiore. Però a parte questo io sono stato felicissimo di leggere che questo film sarebbe stato distribuito in sala e spero che possa essere così anche per i futuri film di Netflix. Se Netflix cominciasse non solo a renderli disponibili nella propria piattaforma ma anche a distribuirli in sala per me sarebbe la cosa migliore di sempre perché il cinema non deve andare a morire. Non deve andare a morire, va benissimo Netflix che faccia i film però non mi piace l'esclusività che Netflix vuole. Non mi piace che per vedere un film per forza ci si debba abbonare ad un sito ma poi costa poco, non è quello, è il principio. Il principio perché chi ama il cinema i film se li vuole vedere in sala. Mi è dispiaciuto ad esempio l'anno scorso per Il Meraviglioso Rimetti a Noi i nostri debiti che trattandosi di un film meraviglioso l'ho dovuto vedere solo su Netflix e questa cosa mi è dispiaciuta perché sicuramente in sala poteva avere un enorme successo e poteva comunque essere visto anche da tutte quelle persone che non hanno Netflix anche perché la cosa brutta è che i prodotti esclusivi per Netflix poi non escono nemmeno in un video, almeno uscissero in un video, neanche quello. Quindi io Netflix lo sostengo nei casi in cui, come stavolta con Sulla Mia Pelle comincia a distribuire anche nelle sale. Detto questo il film è uscito in contemporanea sia su Netflix sia in sala il 12 settembre eccoci anche qua avrei da ridire, preferirei che prima uscisse in sala e poi solo dopo su Netflix perché già la gente non va al cinema, già la gente non è invogliata purtroppo ad andare al cinema se fate uscire lo stesso film nello stesso giorno sia in streaming sia al cinema già la gente non va al cinema così la invitate a non andare ancora di più. io avrei, non dico fatto passare tre mesi, ma almeno un mese, qualche settimana fra lo streaming e il cinema, fra il cinema e lo streaming perché così è assurdo cioè se io penso che ieri sera me lo sono visto in sala ma che avrei potuto vedermelo tranquillamente in streaming cioè mi fa un po' strano pensarlo mi sembra una cosa un po' azzardata cioè la gente bisogna aiutarla ad andare nelle sale bisogna far riscoprire il gusto del cinema alle persone se invece diamo loro la possibilità di vedere lo stesso prodotto subito in streaming beh si fa un torto all'educazione cinematografica delle persone questo secondo il mio parere poi certo io che amo il cinema sono andato lo stesso in sala cioè per me d'ora in avanti se tutti i film uscissero in contemporanea in streaming e nelle sale andrei sempre nelle sale però poi penso che sia giusto farli uscire dopo anche per il piacere dell'attesa quanto è bello vedersi un film in sala e poi dire non vedo l'ora di rivedermelo quando uscirà in dvd quando uscirà in blu-ray non vedo l'ora di rivedermelo quando uscirà cioè avere tutto e subito mi sembra una cosa azzardata e sbagliata però questo è il mio parere non voglio dilungarmi troppo su questa cosa Netflix ovviamente ha fatto un passo avanti distribuendo tramite Lucky Red questo film nelle sale però spero che di passi avanti possa farne ancora di più arrivando a distribuire altri film prima in sala e poi solo successivamente al cinema infatti proprio per questo motivo molti esercenti si sono rifiutati di proiettare il film nelle sale quando sono venuti a sapere che nello stesso giorno sarebbe uscito anche sulle piattaforme streaming online ci sono stati dei problemi comunque sono felice perché pur essendo uscito in poche sale questo film sta riscontrando un ottimo successo e spero che le sale continuino ad essere piene e che questo film possa risplendere davvero il box office anche nei prossimi giorni mi spiace essermi dilungato sotto questo aspetto però ci tenevo a dirvi la mia su Netflix se ora penso a Netflix e ai film di prossima distribuzione Netflix penso a The Irishman il nuovo film di Martin Scorsese che sto aspettando da un anno se io devo pensare che magari questo film uscirà solo in streaming mi prende male al solo pensiero perché io me lo voglio vedere in sala quindi spero che proprio come sulla mia pelle anche The Irishman possa uscire nelle sale non lo stesso giorno che verrà inserito su Netflix e che ovviamente sia sulla mia pelle sia The Irishman sia ogni futuro film di distribuzione Netflix possa uscire anche in un video quindi chiudo qui il mio parere e oggi vi parlo di questo film molto importante e cioè sulla mia pelle dopo aver parlato un po' di Netflix e del mio parere al riguardo allora questo film ragazzi è una vera pugnalata allo stomaco questo film questo meraviglioso film questo splendido film questo film interpretato diretto magistralmente questo film ti prende a cazzotti dall'inizio alla fine questo film ti dà un pugno allo stomaco da inizio visione a fine visione questo film deve far aprire gli occhi io questo film l'ho visto in sala al cinema a Firenze presentato da Alessandro Borghi io che amo Alessandro Borghi che l'ho sempre apprezzato in quel capolavoro di Suburra o di Suburra la serie o nel bellissimo The Place nel meraviglioso The Place attore che ho sempre apprezzato tantissimo attore che mi è sempre piaciuto anche in non essere cattivo vedermelo davanti è stata un'emozione unica una persona gentilissima buona, brava una persona che sa parlare alla gente una persona che ha spiegato la lavorazione di questo film una persona che di fronte a 440 persone che eravamo in sala si è reso disponibile di raccontare gli aneddoti per quanto riguarda la preparazione del personaggio per interpretare Stefano Cucchi il nostro Alessandro è dovuto dimagrire 18 chili circa arrivando a non mangiare niente arrivando anche a poter fare solo la colazione poi andare a letto, risvegliarsi e fare la colazione del giorno successivo qua si nota la bravura di un grande attore come Alessandro Borghi è stato un piacere sentirlo parlare è stato un piacere che il film sia stato presentato da lui avrei continuato ad ascoltarlo per ore e ore però poi ci ha augurato buona visione Alessandro e andandosene ci ha lasciati alla visione di questo immenso e splendido film con la regia del bravissimo Alessio Cremonini questo film ragazzi riporta fedelmente proprio come Alessandro ci ha raccontato in sala gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi di questo 31enne, di questo giovane ragazzo Stefano Cucchi questo film riporta fedelmente i fatti non c'è niente di romanzato questo film si basa su più di 10.000 pagine di verbale che il nostro regista si è letto 10.000 pagine non c'è niente di romanzato ho sentito delle critiche non è possibile che ancora non sono finiti i processi e già ci fate un film senza sapere la verità infatti questo film non dà torto o ragione a nessuno questo film mostra i fatti basandosi sui verbali su ciò che realmente è successo poi sta a noi spettatori avere un proprio parere farsi la propria idea in questo film non vediamo neanche una scena di violenza neanche una perché come ripeto purtroppo dopo anni e anni ancora la verità lampante non c'è stata data nessuno è stato condannato fra quelli che dovrebbero essere condannati e intelligentemente il nostro regista non ci mostra nemmeno una scena di violenza ma ci fa capire quello che è successo così almeno ognuno può farsi la propria idea certo Cucchi però non era un mago che fa così e si riempie di lividi Cucchi non metto in dubbio che fosse un ragazzo problematico è risaputo che fosse uno che purtroppo era tossicodipendente che purtroppo era già stato in comunità che certo non faceva una vita così meravigliosa però era un ragazzo che stava cercando di ricominciare come ci mostra all'inizio di questo film era un ragazzo che cercava di allenarsi per portare avanti per portare avanti il suo obiettivo di diventare un pugile era un geometra lavorava con il padre cercava di rifarsi una vita la sera del 15 ottobre fu trovato in macchina insieme ad un amico come vediamo nel film e fu fermato da una pattuglia di carabinieri fu trovato con diversi grammi di hashish e di cocaina così fu portato in caserma e da lì è iniziato il suo calvario ripeto Cucchi non era un ragazzo per niente facile io non voglio far passare Cucchi come un santo Cucchi era un ragazzo problematico che sicuramente aveva fatto i suoi sbagli aveva fatto i suoi errori questa è la prima cosa che ha detto anche Alessandro in sala ma allo stesso tempo poteva essere drogato poteva essere un tossico poteva essere qualsiasi cosa ma certo non si meritava una fine di quel genere lì specialmente quando lui era il primo a voler rimettere in sesto la propria vita lui era il primo a voler pagare per i suoi sbagli lui non ha mai detto io ho ragione lui non ha mai detto faccio come mi pare lui anche nell'audio che potrete ascoltare anche su youtube se non ci credete lui con sincerità dice io mi dichiaro colpevole per quanto riguarda il possesso di droga droga diciamo di sostanze stupefacenti però si dichiara innocente per quanto riguarda lo spaccio perché lui si definiva innocente questo noi non possiamo saperlo se in realtà era innocente oppure no ognuno può pensarla come vuole resta il fatto che anche se fosse stato uno spacciatore non meritava di fare quella fine lì un ragazzo di 31 anni ma nemmeno ne avesse avuti 40 o 50 non devono succedere cose di questo genere non può esserci un abuso di potere io non sono neanche uno di quelli che dice ah gli sbirri infami i carabinieri no io rispetto l'arma dei carabinieri io rispetto lo stato io rispetto chi tutti i giorni si fa un mazzo per aiutarci ma come in ogni settore il marcio c'è ovunque quindi anche fra i carabinieri ci può essere del marcio può esserci chi ha chi ha magari la voglia di abusare del proprio potere può darsi che ci siano i poliziotti che abusano del proprio potere diaz docet no? però allo stesso tempo ci sono anche tanti carabinieri tanti poliziotti bravissimi ripeto non bisogna fare di tutta l'erba un fascio il marcio ci può essere fra i medici fra gli avvocati fra i dottori fra gli attori cioè nel senso non bisogna mai fare di tutta l'erba un fascio purtroppo il nostro Stefano si è trovato magari di fronte a dei carabinieri che hanno abusato del loro potere continua a dire magari così cos'ha perché purtroppo anche se la verità è lampante come se si dicesse che l'acqua è bagnata non si può dire è stato picchiato non si può perché purtroppo nei processi che ci sono stati questa verità è sempre stata tenuta nascosta voglio vedere andando avanti se prima o poi potremo avere giustizia la sorella di Stefano Cucchi l'aria Cucchi sta portando avanti una battaglia insieme ai familiari di Stefano da anni ormai per cercare di arrivare alla verità su Stefano ne sono state dette di tutti i colori che è morto per un attacco epilettico che è morto perché si drogava che è morto perché è caduto dalle scale ne sono state dette di tutti i colori e questo film mostra proprio il calvario che Stefano Cucchi ha dovuto sopportare e vivere in quei suoi ultimi sette giorni di vita un film che riprende fedelmente ogni cosa ogni spostamento di Cucchi dalla sera in cui è stato arrestato in poi è sempre documentato se tipo dall'ospedale si sposta al carcere viene scritto data ora si trova qua data ora si trova di là tutto viene scritto tutto proprio perché questo film non voleva forzare niente ma voleva riportarvi la verità dei fatti io ho patito tantissimo vedendo questo film questo è uno dei film in cui non mi sento neanche di stare a dire è bellissimo perché ha una regia no qua si va oltre la bellissima regia qua si va oltre la bellissima sceneggiatura qua un film si giudica meraviglioso perché è un qualcosa che deve far aprire gli occhi qua vi è un qualcosa che va oltre ad ogni lode che io potrei fare ad ogni aspetto tecnico del film questa è una storia che merita di essere vista in tutto il mondo questa è una storia che merita di far aprire gli occhi a tutte le persone anche alle tante che pensano di sapere e non sanno niente anche alle tante che dicono io questo film non lo vedo perché dà ragione a Cucchi guardatelo il film e poi capirete che questo film non prende parte per nessuno ti mostra quello che è stato ti mostra un ragazzo che evidentemente ha fatto tanti sbagli ma che comunque non si meritava una fine di quel genere lì io questo film spero possa essere possa essere scelto come film italiano alla notte degli Oscar per quanto riguarda il miglior film straniero tra i più di 20 film che sono in lizza per andare alla notte degli Oscar vi è anche questo come miglior film straniero ce ne sarebbero tanti che ne varrebbe la pena portare perché ad esempio Dogman è un film da Oscar per me A casa tutti bene è un film da Oscar La terra dell'abbastanza è un film da Oscar però ragazzi io spero con tutto me stesso seppur sarei felicissimo se vincesse uno di questi titoli che vi ho detto sarei felicissimo ancora di più se vincesse questo perché questo non è solo un film questo è un messaggio che vi deve entrare nei cuori questo è un tassello importante per far aprirgli occhi alla gente e per me una cerimonia importante come quella dell'Oscar potrebbe far conoscere questo film ovunque e potrebbe far riflettere non solo gli italiani ma chiunque quindi io tifo con tutto me stesso per questo film detto questo guardando questo film si soffre tanto si soffre tanto perché vediamo un giovane ragazzo un giovane ragazzo che si trova a dover vivere dei giorni terribili dei giorni dove la morte piano piano arriverà a farsi sentire un ragazzo di 31 anni un giovane ragazzo magrissimo un giovane ragazzo che soffriva già di epilessia un giovane ragazzo che non viene ben trattato mi è piaciuto vedere in questo film proprio la differenza anche del comportamento delle persone ad esempio fra le guardie vi sono quelle che si che si confrontano con lui con educazione e rispetto e quelle che invece lo trattano come se fosse il peggio delinquente chi porta rispetto chi non porta rispetto vi è una grande differenza questo film analizza tutto questo film è splendido questo film ha delle interpretazioni magistrali Stefano Cucchi interpretato da Alessandro Borghi è stato magnifico per me che voglio fare questo lavoro di mestiere che faccio l'attore di mestiere vedere questo film è stato come se fossi stata ad una lezione di recitazione perché Alessandro Borghi è riuscito a trasmettermi un grande amore per la recitazione e mi ha trasmesso tutta la sua buona volontà per interpretare alla perfezione un personaggio assolutamente non facile è stata una grande lezione per me e questo personaggio l'ha interpretato benissimo vi è un lavoro sull'attore spettacolare qua Alessandro Borghi è riuscito a ricalcare la voce quasi alla perfezione i movimenti i modi anche di sorridere questo film mi ha stupito questo film è fantastico in tutta la sua crudeltà in tutta la sua durezza è un film che ti colpisce allo stomaco ed è giusto che sia così Jasmine Trinca interpreta Ilaria Cucchi abbiamo uno splendido Max Tortora oltre alla bravissima Jasmine Trinca nel ruolo del padre di Stefano Cucchi e io sono stato felicissimo di vedere Max Tortora in un ruolo di questo genere sono stato veramente felice ma tanto 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 perché Max Tortora è un attore comico che io apprezzo da morire l'ho sempre apprezzato nelle commedie del caro Carlo Vanzina l'ho sempre apprezzato nei Cesaroni ultimamente si sta dimostrando anche un grande attore che può mettere da parte la comicità e dimostrarsi bravo in qualsiasi genere perché se io penso solo a quest'anno lo penso felicemente nella Terra dell'Abbastanza ma anche in Loro 1 e Loro 2 perché comunque aveva delle parti anche in questi due film e mi fa piacere che stia anche andando incontro ad una carriera di attore drammatico quindi sono felicissimo questo film veramente mi ha scosso questo film mi ha fatto pensare che poteva succedere a chiunque una cosa del genere io mi mettevo nei panni di questo 31enne poteva aver fatto tutti gli sbagli possibili ma lui si trovava lì con un amico viene catturato dai carabinieri ok, ha sbagliato ha della droga con sé, ok ma io mi mettevo nei suoi panni io magari pensavo se fossi stato io al suo posto cosa avrei fatto, come sarei andato avanti poteva succedere a chiunque cioè io pensavo a questo ragazzo che è uscito di casa con l'idea di uscire con un amico di andare a dormire e invece è stato fermato e da lì è iniziata la sua odissea è iniziata la sua fine un sorriso si trasforma in una smorfia di dolore a distanza di un'ora è assurda questa cosa io mi mettevo nei suoi panni immaginavo che i suoi genitori fossero i miei genitori e stavo male stavo malissimo io poi sono una persona molto sensibile più volte ho trattenuto le lacrime durante questo film più volte ho cercato di di respirare e continuare la visione ma dentro provavo un grande dolore un grande dolore perché sono cose che non possono accadere io spero che venga fatta chiarezza spero veramente che venga fatta chiarezza e che chi deve pagare paghi chi deve pagare paghi io non sto accusando nessuno ma i lividi non sono apparsi così per magia e non si riduce una persona così non si riduce io sono il primo a dire che l'arma si debba far rispettare ma lui cosa vi aveva fatto? cioè è subito venuto con voi si è subito fatto arrestare non ha opposto resistenza eppure è andato incontro ad una fine terribile e quello che mi ha fatto male è stato vedere anche il suo grande terrore interiore ovviamente dopo essere stato pestato lui ha paura di dire la verità ha paura di mettersi contro qualcuno più grande di lui lui ha il terrore di dire sono stato picchiato lui comincia a dire di essere caduto dalle scale per paura che poi potessero fargli peggio o addirittura che potessero accusarlo di falsa testimonianza chi è lui per mettersi contro ad una persona che rappresenta la forza dell'ordine e quindi io pativo per lui dentro di me guardavo questo film sperando dall'inizio alla fine che il finale potesse cambiare così non è stato purtroppo perché sapevo già dove saremmo andati a finire ma io lo speravo lo speravo soffrivo insieme a lui mi veniva da dirgli Stefano dici la verità dici la verità ogni tanto ci prova a farlo ci prova ma la cosa non porta niente non porta niente anche perché lui non ha potuto parlare con l'avvocato che voleva più volte ha chiesto di rivedere l'avvocato che gli era stato assegnato e non è stato possibile lui una cosa del genere la voleva dire solamente al suo avvocato addirittura è arrivato a dire io sospendo le cure fino a che non mi fate parlare con il mio avvocato perché lui doveva dirlo a qualcuno che era stato picchiato e niente non è stato possibile come non è stato possibile per la sua povera famiglia vederlo in continuazione non la facevano entrare la famiglia è serve il permesso del giudice è serve il permesso di quello di quell'altro di quell'altro insomma la famiglia da quando lui è stato arrestato non l'ha più visto io mi mettevo nei panni di questo giovane ragazzo che da un momento all'altro non ha saputo più niente della famiglia come se io ora venissi arrestato morissi la prossima settimana e morissi senza più rivedere la mia famiglia è assurda come cosa cioè è assurda non è possibile non poter vedere il proprio figlio che sta male non è possibile non sapere niente non è possibile che una guardia poi arrivi a casa per far firmare la notifica della morte e che la madre scopra una cosa del genere perché un carabiniere va a suonare alla porta e fa firmare questa notifica cioè è impossibile è impossibile io non so nei panni di genitore se fossi genitore cosa avrei fatto io vedevo i genitori che ogni giorno andavano e non riuscivano cioè io conoscendo me stesso sapendo che sono una persona che ama avere tutto sotto controllo se la persona più importante per me la rinchiudessero e in continuazione non mi dessero la possibilità di vederla io diventerei matto a costo di mettermi fuori e saltare i muri chiamare 3000 avvocati non so cosa farei però veramente starei male quindi mi mettevo nei panni della famiglia di Cucchi e stavo malissimo e stavo malissimo perché poi immergendomi nel pensiero di Stefano dicevo ma cosa penserà Stefano? perché ovviamente la famiglia ha sempre cercato di sostenere il figlio ma una famiglia dopo tanti dispiaceri, dopo un po' è anche un po' triste e delusa da certi comportamenti tant'è che già pensavano ora però appena esce si mette subito in comunità e lui ci aveva promesso che aveva smesso con la droga ora si mette in comunità quindi io mi mettevo nei panni di Stefano e dicevo ma cosa potrà pensare di me e la mia famiglia? se già li ho delusi tanto non è che non mi vengono a trovare perché magari li ho delusi cioè lui magari è morto pensando che la sua famiglia l'avesse abbandonato perché nessuno dava a lui notizie nessuno diceva a lui guarda siamo noi a non farli entrare perché mancano i permessi è assurda come cosa ci sono delle scene in questo film che veramente mi hanno fatto provare un dolore immenso ovviamente in questa recensione non ci sarà nemmeno una parte spoiler perché cosa dovrei spoilerare? sapete tutti quello che è successo a Stefano Cucchi e nel film viene raccontato senza mai vedere una scena di violenza la violenza si vede lo stesso e sapete dove si vede sulla sua pelle ma anche sulla nostra pelle perché Stefano Cucchi potevamo essere chiunque perché ok uno potrebbe dire ma io non mi drogo io non spaccio io non faccio ok neanch'io sono tossicodipendente neanch'io fumo, drogo, bevo, non faccio niente però se mi trovassi di fronte uno che abusa del suo potere sarebbe difficile lo stesso può succedere a chiunque una cosa del genere bisogna sempre, sempre, sempre ringraziare il Signore che si stia vivendo stando bene perché non è possibile pensare che un giovane finisca la sua vita in un modo così atroce io spero che venga fatta giustizia spero che Ilaria Cucchi possa portare avanti la sua onlus il suo gruppo per dare giustizia per far giustizia lo spero con tutto me stesso spero che quelle persone che hanno sbagliato possano pagare erano stati sospesi i carabinieri che avevano arrestato se non sbaglio Stefano Cucchi però poi tutto rinviato a giudizio rinviato a giudizio rinviato a giudizio e poi falsa testimonianza di qui di là cioè una marea di roba pur di non dire quello che realmente è successo eppure quando Ilaria Cucchi ha diffuso le foto del corpo di Stefano Cucchi all'obitorio beh quelle foto parlano chiaro parlano molto chiaro quelle foto foto terribili che io in questo momento vi faccio vedere questo è il vero Stefano Cucchi ora ditemi voi se è caduto dalle scale ditemi voi se questi ematomi li procura un'epilessia e ditemi voi se un ragazzo può fare una fine così io ho avuto i brividi quando ho visto il video che se riesco a trovare inserirò alla fine di questa mia recensione ho avuto i brividi quando ho trovato il video della presentazione di questo film all'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia perché questo film è stato presentato come apertura della sezione orizzonti al Festival del Cinema di Venezia e alla fine del film vi è una scena splendida in cui vi è un Alessandro Borghi commosso un Max Tortora commosso e abbiamo la sorella di Stefano Cucchi la vera Ilaria Cucchi che dà un abbraccio strettissimo ad Alessandro Borghi piangendo insieme e trasmettendosi tutto l'affetto possibile perché è come se per la prima volta dopo la morte del fratello lei avesse potuto rivedere il proprio caro fratello è una scena struggente questo film è stato veramente l'ultimo saluto di Stefano alla famiglia e spero che dall'assù Stefano possa aver visto questo film possa aver visto questo film e che possa aver capito realmente come sono andate le cose ben sapendo che la sua famiglia non l'ha mai abbandonato Stefano poteva aver fatto i peggiori sbagli perché aveva dei precedenti non sappiamo nemmeno quali non era un santo Stefano non pensate che io stia facendo la recensione definendolo un eroe era una persona con tanti difetti ma che non meritava una fine così detto questo ragazzi i miei complimenti ad Alessio Cremonini regista, sceneggiatore, soggettista i miei complimenti a tutto il cast io che nella vita faccio l'attore avevo i brividi di fronte ad una lezione di recitazione così eccelsa i miei complimenti a tutti le musiche dei Mocadelic grandi compositori anche di quel capolavoro di serie tv che è Gomorra ho avuto i brividi per tutto il tempo ho pianto mi sono commosso e sono stato malissimo sono stato malissimo sono felice per Netflix che finalmente ha distribuito il film in sala ripeto ho fatto quel pappie di discorso all'inizio spero che da qui in avanti possa distribuire ogni film ma non nello stesso momento della piattaforma stream cioè non nello stesso momento in cui viene messo anche sulla piattaforma perché altrimenti si potrebbe andare incontro a problemi inutili come quelli che ci sono già stati fra i sercenti e insomma i addetti ai lavori quindi spero non possa più succedere una cosa di questo genere quindi meno male Netflix sta facendo questo passo avanti spero che per The Irishman di Scorsese sia la stessa cosa e come posso concludere? posso concludere con quello che alla fine del film viene scritto alla fine del film me lo sono scritto questo appare sullo schermo una didascalia e in questa didascalia viene scritto questo Stefano Cucchi è stato il 148esimo morto in carcere il totale del 2009 di 172 decessi i medici e i periti dei processi non hanno ancora trovato una spiegazione scientificamente condivisa sulla morte di Stefano Cucchi i genitori di Stefano Cucchi hanno scoperto nell'appartamento del figlio più di un chilogrammo di hashish e 130 grammi di cocaina che hanno subito denunciato la polizia questo vi fa capire la piena collaborazione della famiglia di Cucchi il primo processo per la morte di Stefano Cucchi è finito con l'assoluzione di tutti gli imputati dopo nuove indagini della Procura della Repubblica il 10 luglio 2017 il giudice per le udienze preliminari ha rinviato a giudizio tre carabinieri per omicidio preterintenzionale e altri due per calugna e falso in atto pubblico nel 2017 hanno fondato una onlus intitolata a Stefano Cucchi per difendere i diritti umani e civili del cittadino sulla mia pelle un film che dovete anzi dovete a tutti i costi andare a vedere al cinema guardatelo sostenetelo è un film che vi farà aprire gli occhi fatemi questo regalo andate in sala promettetemi di andare in sala a vedere questo film perché questo film vi farà aprire gli occhi capito ciao ragazzi alla prossima recensione a tutti i nostri a tutti i nostri cantiamo a tutti i nostri a tutti i nostri di nostri a tutti i nostri amici a tutti i nostri ecco anzi